Albano non ha dimenticato, lo sai, contestarei a vita. Chi è la fortunata? Momento magico per Albano Carrisi, richiestissimo in televisione. Il cantante dovrebbe tornare nel programma a cui ha partecipato in dolce compagnia. Il cantante di Cellino San Marco sembra non doversi fermare più. Nonostante la mancata riconferma, i The Voice Senior, Albano Carrisi è più richiesto che mai e in molti se lo contendono per far parte dei loro programmi TV. L'attenzione è sempre alta per questo grande interprete della canzone italiana. Sembra che alla fine a spuntarla sarà Millie Carlucci, con la quale pare l'artista stia concludendo le trattative per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Il programma sta affilando gli artigli per dare filo da torcere alla concorrenza, prima fra tutti alla storica rivale Maria De Filippi. La prima puntata debutterà su Rai 1 sabato 16 ottobre e Albano, tra i tanti, raggiungerebbe il primo concorrente ufficiale, il collega Morgan. Ma in molti hanno dato la propria disponibilità, sperando nella chiamata della conduttrice, come Samantha De Grenet, ex G e fina di quest'anno Sabina Guzzanti, della famosa famiglia di attori comici. Per l'artista pugliese sarebbe la seconda volta, visto che aveva già preso parte alla trasmissione in qualità di ballerino per una notte, riscuotendo un grande successo e facendo sognare il pubblico a casa. Albano e la memorabile esibizione con lei, nessuno come loro. I fan ai tempi impazzirono nel vedere i loro beniamini ballare mazzurca e foxtro e la Carlucci deve essersene ricordata, visto che saggiamente ha deciso di ricontattare Carrisi. Una delle decine di fanpash che pullulano Instagram ha deciso proprio di ricordare quella magica serata con uno splendido scatto, che raffigura il cantante in ginocchio, mentre aiuta in un passo la sua compagna, vestita con un completo lilla. È che io fra le tue mani ci starei anche tutta la vita, scrivono i gestori. Ricordando, ballando con le stelle, la puntata in cui Albano e Romina Power erano ballerini per una notte, continuano quindi, lanciando un messaggio di speranza, non vediamo l'ora di rivedervi con questo entusiasmo e con questa adrenalina.